L'uso della mascherina, oltre che per la protezione individuale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. È obbligatorio portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio. A precisarlo è l'assessorato regionale alla salute, in merito all'utilizzo all'esterno della mascherina, previsto dall'ordinanza emanata ieri dal presidente della regione Sicilia, Musumeci. In particolare, viene sottolineato che l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ad esempio nei mercati, nelle strade affollate o in qualsiasi spazio in cui, così come si legge nel decreto del presidente del Consiglio del 17 maggio, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Insomma, per semplificare, qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti, l'obbligo non è quello di indossare il dispositivo di protezione, ma di averlo sempre a portata di mano. Inoltre, nell'ordinanza, si legge che non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività motoria, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività fisica, ovviamente qualora si rendesse necessario. Inoltre, l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.